Parla l'assessore comunale al turismo Alfredo Cremonese. Pescara non vuole scepare il concerto a Vasto. Solo se non dovessero esserci le condizioni, la nostra città si dice pronta. Cremonesi, alla luce delle ultime dichiarazioni del prefetto di Chieti, che ha bloccato il Giova Beach Party sulla spiaggia di Vasto per motivi di sicurezza, si dice pronto a uno sforzo mastodontico per rendere Pescara zona madonnina teatro del concerto. Io e il sindaco Carlo Masci, che abbiamo preso con entusiasmo la possibilità di verificare Pescara come sede dell'evento, abbiamo da subito detto che l'evento, facciamo il tifo per Vasto, per la città di Vasto, perché l'ha organizzata da tanti mesi e speriamo che possa essere lì la sede dell'evento. Chiaramente se questo non dovesse accadere, non potesse accadere per problemi, Pescara si è subito attivata in pochissimi giorni per capire se c'è la possibilità di svolgerlo nella nostra città. Ci siamo attivati e in due giorni abbiamo fatto un lavoro immenso, spero che i cittadini pescaresi possano apprezzare, potrebbe essere una risposta positiva o una risposta negativa, ma è un evento mastodontico che vede da un lato la massima sicurezza, perché tutto deve svolgersi nella massima sicurezza, nella protezione dell'area protetta e soprattutto trovare 30.000 metri quadrati disponibili da mettere a disposizione dell'organizzazione di Giovanotti. Qui siamo alla Madonnina dove si dovrebbe svolgere il concerto, c'è da fare un accordo con alcuni balneatori a questo punto? Assolutamente sì, l'area richiesta è di circa 30.000 metri quadrati, noi ne disponiamo di una parte ma all'altra parte dobbiamo chiederle chiaramente ad alcuni stabilimenti balneari. Il Comune anche su questo già si è attivato e ha parlato con alcuni di loro e abbiamo iniziato una interlocuzione. Capiamo anche le grosse problematiche, pensiamo che dovrebbero smontare tutti gli ombrelloni nelle date del 15, 16 e 17 agosto, cioè quindi il clou della stagione estiva. Nessun campanilismo, benvenga Vasto, benvenga Pescara, benvenga anche l'ipotesi di Giulianova, l'importante che il concerto si faccia in Abruzzo. Tra l'altro voci mi hanno detto che gli organizzatori, anche lo stesso manager di Giovanotti, pare sia però entusiasta di questo luogo della Madonnina e della città di Pescara. Il manager di Giovanotti, con il quale ho avuto il piacere di parlare proprio ieri, è entusiasta di fare il concerto in Abruzzo innanzitutto e la cosa a cui tiene di più è che sia fatto in sicurezza. Parliamo di una folla di circa 40.000 persone, la maggior parte ragazzi, di sera vicino al mare. Quando si avrà la risposta definitiva? Io credo che per avere una risposta definitiva occorrono due tappe fondamentali. La prima è che il Comune di Vasto dica se può o meno ospitare l'evento. Io credo che questo possa accadere orientativamente la prossima settimana. E per lo stesso giorno in cui questo accadrà, Pescara dovrebbe essere pronta con tutto il piano per dire sì, possiamo accogliere l'evento, siamo nelle condizioni, quindi avere l'accordo dei balneatori, avere l'aria a disposizione, avere il piano traffico disponibile, parlare con la Questura, con la Prefettura per poter ospitare l'evento. Grazie.